Allora, le vostre sono due persone che vivono, i vostri personaggi, vivono in una parte di Napoli diverse. Io chiaramente non me ne rendo conto, ma mi incuriosisce, c'è un lavoro diverso sul dialetto, sul sottodialetto? Beh, dimmi. Certo. In che maniera? Me lo sai spiegare? Allora, il dialetto che possono parlare nella Napoli bene, chiamiamolo così, non è certo quel dialetto che parla, per esempio, il mio personaggio che abita nella Napoli non bene, cioè hanno un'altra matrice, un'altra musicalità. I napoletani tutti sanno parlare un po' di dialetto, perché la città vive anche molto del dialetto, però i borghesi parlano, come ha detto Francesco Piccolo oggi in conferenza stampa, di un dialetto citato, di un dialetto di rappresentanza, che è bello e musicale, di cui usi delle parole, delle frasi. Invece il personaggio, per esempio, di Gia Vittoria parla un dialetto che è una lingua vera e propria ed è molto più difficile anche da, forse da capire, per chi non lo parla. Mi sembra strano che non senti la differenza, no? No, non ho questo tipo di orecchio, ma levami una curiosità. Quel tipo di dialetto immagino sia specifico di quella zona della città, ma è anche specifico di quegli anni, perché se dovessi fare i paragoni con il dialetto di Roma è quello che conosco di più. È cambiato. Io so che quello degli anni 80 non è quello di oggi, è uguale anche per Napoli. Sì, io penso che anche a Napoli è cambiato. Io penso che si è cambiato più, penso, adesso così, si è cambiato più il dialetto, più borghese e il modo, l'accento dei napoletani borghesi piuttosto che quel dialetto lì, che se vogliamo ha una matrice più antica, più antica e che è rimasto proprio forse più. Adesso non lo so. No, io penso sì, penso che quello che dico è un... Beh, però quello a cui fai riferimento tu è quello, tra virgolette, d'epoca. D'epoca, che però era d'epoca, 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 che esiste da sempre e che va naturalmente poi arricchendosi, trasformandosi o prendendo delle derive, però comunque è più antico. Vedi, nell'andare avanti della serie, il tuo personaggio un po' prende la parlata della zia? No, lei utilizza forse alcune frasi che sente dire alla zia, che sono in dialetto, è un po' volgari. Sì, già nella seconda puntata te lo dici. Sì, lei utilizza... Non ti voglio dire che cosa... Arcanzi è irripetibile. Dice questa cosa a un ragazzo che le va a stare in moto a fianco e lei lo utilizza subito dopo a scuola per un ragazzo che offende la sua amica Angela. Quindi sì, diciamo che piano piano acquisisce qualcosa di De Vittoria, però non parla mai, lei non parla mai, vi ha detto. La storia, e proprio anche la serie, perché avviene nei primi minuti della prima puntata, parte con l'idea che questa ragazza somiglia a questa zia che all'inizio non vediamo. Poi in realtà scopriamo che è tutto molto più complicato di così, non è solo una questione di somiglianza. Però c'è stato tra voi due un aggiustamento per somigliarvi in certi momenti o differenziarvi in altri? Non proprio, perché penso... Gli occhi, il colore, forse... Ma anche movimenti e atteggiamenti mano mano che vi conoscete. No, lei che è molto brava, perché lei, sai, io sono quella roba lì, quindi più che altro è lei che si è dovuta aggiustare proprio per il tipo di ruolo e lei tra l'altro fa me da ragazza, cioè nei flashback fa me da ragazza. E lei è molto brava, non si direbbe, ma è veramente brava a proprio... A fare Valeria con uno giovane. Non a me, non faremi, fare gli altri. Quindi lei ha preso dei miei atteggiamenti. Lei faceva... Sembravo io. Sembravo io quando... Quindi lei l'ha dovuto fare più di me, perché sai, ormai vittoria che deve fare. È già fatta. È lei che si è adeguata, ecco. Spesso nelle opere di Liana Ferrante, almeno in quelle che hanno avuto un adattamento sia in serie che in film, c'è un personaggio che subisce la fascinazione di un altro personaggio, di un modello femminile non allineato, diciamo. Tu hai lavorato... Io mi rendo conto che un attore non giudica il proprio personaggio, quindi magari non ragiona così. Tuttavia, noi dobbiamo, anche noi, farci affascinare da questa zia. E tu un po' questa cosa nella tua interpretazione ci entra. Nel fatto che deve essere quel tipo di donna, ma deve essere molto affascinante. Hai ragione su questo che dici. In generale questo per gli attori è sempre una cosa importante. Cioè come rendere quel personaggio guardabile e interessante, proprio bello da vedere. questo penso che sia una cosa che ci riguarda sempre. È vero che con certi personaggi, da una parte è più facile, perché se hai dei personaggi molto colorati, molto così archetipici come il suo, ma anche molto, insomma, definiti, ecco. È più facile rendere guardabile zia Vittoria, che è un personaggio molto introverso, che non fa grandi cose. Però è anche vero che è un personaggio che rischia di essere anche, non, come dire, adesso non mi viene la parola, però... Non affascinante, non attraente. Sì, o comunque sì, un po' repellente potrebbe anche essere, non lo so. Uno solo prende questo rischio anche di non piacere, no? Ok. Il tempo sarebbe scaduto, ma ti voglio fare quest'ultima domanda. Tu, con l'esperienza che hai, ma anche con, semplicemente anche con la tecnica di recitazione, non sei in grado di dire, so che se faccio questo tipo di cose il personaggio tende a piacere. So essere ruffiana, se voglio, ecco. Dunque, è chiaro che, insomma, faccio l'attrice da quando mi ricordo di me stessa. A un certo punto è chiaro che apprendi a fare delle cose che sai, cioè che sono le cose che ti mettono al sicuro, un po', no? Lo fai, forse lo fai anche inconsciamente a volte. Un po' lo sai, un po' lo sai, diciamo pure così, un po' lo sai, sì. Sì. Ok, grazie mille. Grazie. Ciao. Ciao.